Propagare una pianta significa ottenere da una pianta madre tante altre piccole piantine. I botanici, che sono gli studiosi delle piante e si occupano della loro classificazione, suddividono questo metodo di riproduzione delle piante in due grandi categorie che, con dei termini tecnici, definiscono propagazione gamica e propagazione agamica. Adesso vediamo qual è la differenza fra queste due grandi categorie. La propagazione gamica si ottiene sostanzialmente tramite i semi che una pianta produce. Per esempio, se noi abbiamo una quercia, noi piantiamo una ghianda e noi dopo qualche anno otterremo una piccola quercia e poi una grande quercia. Se abbiamo un pesco, noi piantiamo il nocciolo e dopo qualche anno avremo una piantina di pesco. La stessa cosa avviene, che so, con un'albicocca e l'elenco potrebbe continuare all'infinito, che so, con il mandorle e via dicendo. Queste piante che noi riproduciamo tramite i semi, alcune volte mantengono le caratteristiche della pianta madre, altre volte invece c'è un rimescolamento genetico per cui noi non otterremo mai una pianta con le stesse caratteristiche della pianta madre. A quel punto che cosa bisogna fare? Bisogna ricorrere all'innesto. Tra le piante che meglio di tutte le altre mantengono le caratteristiche della pianta madre, ricordiamo per esempio il nespolo, il noce, il castagno, alcuni tipi di albicocco, di pesche e via dicendo. Moltissime altre piante invece, se noi piandiamo un seme, otterremo una pianta con delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle della pianta madre. La seconda grande categoria di riproduzione delle piante è quella che abbiamo definito propagazione agamica e consiste sostanzialmente nell'utilizzare una porzione della pianta che noi vogliamo riprodurre, come per esempio un rametto. In questa maniera noi avremo la certezza di creare una pianta con le identiche caratteristiche della pianta madre, cioè noi otterremo un vero e proprio clone. La propagazione agamica si basa sostanzialmente su quattro metodologie, l'innesto, la propaggine, la margotta e la talea. Oggi ci occupiamo prevalentemente di innesti, tratteremo gli altri argomenti nei prossimi video. Io vi invito a iscrivervi a questo canale Vivere in Campagna semplicemente cliccando dove c'è scritto iscriviti e cliccando subito dopo sulla campanellina selezionando tutte. In questa maniera avrete la certezza di essere avvisati ogni qual volta ci sarà una nuova pubblicazione su questo canale Vivere in Campagna. Ritornando al nostro argomento vediamo come si procede nell'esecuzione di un innesto e soprattutto vediamo quali sono le condizioni e i vari tipi di innesto che noi possiamo realizzare sulle nostre piante da frutto. Quando noi parliamo di innesti dobbiamo porci subito una domanda. Qual è lo scopo del nostro innesto? Quali sono le finalità? Ebbene noi eseguiamo un innesto nel momento in cui abbiamo bisogno di riprodurre le caratteristiche di una pianta madre che noi non riusciamo a riprodurre tramite il seme. Per esempio l'ulivo. Se noi prendiamo un seme di ulivo e lo piantiamo otterremo un ulivo selvatico per cui abbiamo bisogno di innestarlo dopo due o tre anni. Le finalità dell'innesto in realtà sono molteplici. Un'altra è sicuramente quella che ci aiuta a combattere alcune malattie come nel caso della vite che noi innestiamo sempre su una vite selvatica, su una vite americana perché quest'ultima è molto più resistente ad alcune malattie in particolar modo alla fillossera. Tra le altre motivazioni troviamo per esempio quella della sostituzione di una pianta e cioè nel momento in cui il mercato richiede alcune varietà noi avendo già delle piante sviluppate possiamo reinnestarle e quindi in questa maniera recuperiamo molto tempo rispetto all'impianto di un nuovo frutteto. E naturalmente abbiamo poi una miriade di finalità che possono essere ringiovanire una chioma o sanare eventuali danni, limitare lo sviluppo di una pianta, per esempio possiamo innestare un pero su un cotogno oppure un ciliegio dolce su un ciliegio acido. Possiamo eseguire l'innesto per esaltare lo sviluppo, per esempio un pesco su un mandorlo, migliorare le caratteristiche dei frutti, per esempio sono organoletticamente migliori i mandarini prodotti da piante innestate sul limone, raggiungere la fruttificazione con largo anticipo anche se le piante tendono in questo caso a invecchiare più precocemente, ottenere più cultivar su una sola pianta. Come si vede i vantaggi sono tali e tanti che è praticamente impensabile praticare anche solo a livello amatoriale la coltivazione degli alberi da frutto senza utilizzare la tecnica dell'innesto. Adesso vediamo quali sono le condizioni affinché il nostro innesto vada a buon fine, affinché vi sia quello che si chiama attecchimento. Una delle questioni più dibattute sicuramente è quella che riguarda l'affinità. Per capire l'affinità che c'è tra le varie piante noi dobbiamo capire come queste vengono raggruppate da un punto di vista botanico. Abbiamo per esempio il genere che accomuna piante che hanno diciamo delle similarità tra di loro come per esempio il mandorlo, il ciliegio, il susino, hanno delle caratteristiche che le accomuna. Ebbene se io innesto queste piante tra di loro ho delle buone probabilità che queste attecchiscono. Però l'attecchimento non è sicuro perché comunque non c'è una strettissima affinità. Se poi mi concentro su una di queste specie, per esempio sul susino che viene definito col nome scientifico prunus domestica, è chiaro che se io innesto alcune varietà di susino tra di loro hanno una affinità molto ma molto più elevata rispetto a quelle che appartengono allo stesso genere. Quindi ricordiamoci abbiamo il genere, in questo caso per esempio abbiamo parlato di prunus che ha comune ciliegio, mandorlo, susino, albicocco eccetera eccetera. Poi abbiamo le varie specie per esempio che so prunus domestica che è il susino. All'interno di una specie troviamo le varietà, per esempio abbiamo il susino rosso, il susino giallo e via dicendo. Se noi innestiamo delle piante che appartengono allo stesso genere abbiamo buone possibilità di attecchimento. Se invece ci concentriamo su piante della stessa specie le probabilità di attecchimento aumentano perché aumenta di conseguenza anche l'affinità botanica tra queste piante. Noi non dobbiamo gioire eccessivamente quando vediamo che le gemme delle nostre marze iniziano a schiudersi e quindi siamo convinti che quell'innesto è attecchito. No perché noi dobbiamo considerare l'innesto non soltanto nei primi mesi di vita ma nel corso della vita della pianta. Per cui se c'è veramente affinità quell'innesto dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni diventerà una vera e propria pianta che porterà i suoi frutti e soprattutto vivrà in maniera armonica con il portinnesto. Altrimenti se noi notiamo che ci sono delle crescite abnorme alcune volte quando noi innestiamo vediamo che c'è la marza che inizia ad ingrossarsi eccessivamente nel punto in cui l'abbiamo innestata. Ebbene quello è un segno di disaffinità così come è un segno di disaffinità quando noi vediamo la marza che stenda a crescere, che stenda praticamente a diventare una pianta adulta. Un'altra condizione fondamentale ai fini dell'attecchimento dell'innesto è l'epoca in cui dobbiamo eseguire i nostri innesti. Per la maggior parte dei nostri innesti primaverili ricordiamoci sempre che dobbiamo procurarci le marze con largo anticipo cioè noi dobbiamo prelevare le marze della pianta madre che noi vogliamo propagare le dobbiamo frigo conservare. A proposito di questa pratica io vi lascio in basso i link per collegarvi e vedere come si prelevano e si conservano le marze fino al momento dell'innesto. Quando noi eseguiamo un innesto quindi dobbiamo avere il nostro portinnesto che deve essere in una fase di risveglio vegetativo cioè deve avere messo i primi germogli. Invece la nostra marza deve essere completamente in letargo per questo noi la frigo conserviamo per cui mettiamo questa marza con le gemme completamente chiuse sul portinnesto che invece ha le gemme aperte. In questa maniera si crea il giusto dialogo tra marza e portinnesto ma questo io l'ho spiegato in altri video che voi potete vedere appunto collegandovi semplicemente con un clic. Non commettete mai l'errore di eseguire l'innesto con una marza che abbia le gemme aperte e con un portinnesto che ancora non si è svegliato da un punto di vista vegetativo. In questa maniera l'esito dell'innesto sarà naturalmente negativo. Un'altra condizione che noi dobbiamo rispettare nel momento in cui eseguiamo un innesto è quello del rispetto della polarità cioè quando noi prendiamo la marza è chiaro che la dobbiamo inserire nel portinnesto con le gemme rivolte verso l'alto come se noi prelevassimo il rametto della pianta madre senza capovolgerlo e lo inseriamo nel portinnesto e attenzione perché questo sembra banale ricordarlo ma ci sono alcuni generi di piante come per esempio la vite che nel momento in cui noi abbiamo la marza alcune volte ci sfugge la direzione esatta della polarità per cui prestiamo molta attenzione anche a quest'altro aspetto. Nel momento in cui noi abbiamo eseguito l'innesto abbiamo ricordato poc'anzi che non dobbiamo gioire immediatamente nel momento in cui vediamo che sboccero le prime gemme perché affinché l'innesto possa considerarsi attecchito noi dobbiamo attendere quel processo che culmina nella saldatura tra marza e portinnesto cioè si deve creare quello che viene definito callo. Questo è un processo che a noi sembra quasi banale in realtà questo è un processo molto complesso che mette in atto sia il portinnesto sia la marza affinché si crei quest'unione stretta che porterà poi negli anni successivi a questa armonia tra marza e portinnesto cioè è la base per creare la nuova pianta. Tra le condizioni di un probabile attecchimento del nostro innesto c'è anche l'utilizzo di attrezzature adeguate non sono molte queste però ricordiamoci di avere dei coltelli da innesto ben affilati, delle forbici e poi dei materiali tipo dei nastri. Io vi consiglio di utilizzare l'apposito mastice che tra l'altro costa pochissimo ed è veramente un materiale che aumenta notevolmente le probabilità di attecchimento dei nostri innesti perché protegge l'innesto evita che la marza e il portinnesto si disidratino e inoltre evita che agenti patogeni entrino all'interno della pianta tramite appunto le ferite che noi procuriamo alla pianta nel momento in cui la innestiamo. E adesso entriamo più da vicino nel mondo degli innesti perché la prima cosa che dobbiamo fare è quella di distinguere i vari tipi di innesto in due grandi categorie. Abbiamo gli innesti a marza e gli innesti a gemma. Tra gli innesti a marza sicuramente voi ne avrete visti tanti anzi ne avrete eseguiti tanti come per esempio l'innesto a spacco, l'innesto a corona, triangolo, sono degli innesti a marza perché noi utilizziamo appunto una marza che in genere noi dobbiamo frigo conservare. Perché dico in genere dobbiamo frigo conservare? Perché in realtà si conservano soltanto le marze degli alberi da frutta a foglia caduca. Quindi se c'hanno le foglie che cadono durante l'autunno vuol dire che nel momento in cui eseguiamo l'innesto dobbiamo prelevare una marza con anticipo. Se invece innestiamo delle piante sempre verdi non c'è bisogno di prelevare le marze in anticipo e frigo conservarle. Questo è il caso per esempio dell'ulivo o degli agrumi. Su tutti questi tipi di innesto naturalmente ci sono dei video che sono stati pubblicati sul canale Vivere in Campagna per cui voi potrete vedere semplicemente cliccando su questi link come si esegue un innesto a triangolo, un innesto a corona, un innesto a spacco, come si prelevano e si frigo conservano le marze e via dicendo. In basso vi lascio tutto il materiale per poter accedere ai diversi video che riguardano appunto i vari tipi di innesto. La seconda categoria di innesti è quella che viene definita a gemma. Tra questi abbiamo quelli a gemma dormiente e quelli a gemma vegetante. Qual è la differenza? Quella gemma dormiente vengono eseguiti durante l'estate, anzi durante la fine anche se dobbiamo tenere presente che con i cambiamenti climatici forse è il caso anche di ritardare questo periodo. Si chiama una gemma dormiente perché noi in realtà eseguiamo l'innesto nel momento in cui il portinnesto inizia la fase di letargo per cui noi inseriamo quella gemma nel portinnesto ma in realtà dormirà per tutto l'inverno per poi svegliarsi la primavera successiva. Gli innesti a gemma vegetante invece si eseguono in primavera, anche primavera inoltrata e in questo caso le gemme in genere vengono prelevate da marze che vengono frigo conservate. Sia l'innesto a gemma dormiente sia l'innesto a gemma vegetante si eseguono facendo un'ingisione sul portinnesto. Alcune volte noi eseguiamo un'ingisione a forma di T. In quel caso avremo un innesto a scudetto. Altre volte invece eliminiamo una parte di corteccia insieme a una parte del legno e in quel caso avremo un innesto alla mallorchina. L'innesto a pezzi invece consiste nell'asportazione di un quadratino di corteccia che una volta estratto noi lo sostituiremo con un altro quadratino di corteccia della pianta madre che noi vogliamo riprodurre. Naturalmente in questo quadratino ci deve essere la gemma. Per concludere vorrei dire che nella riuscita degli innesti intervengono in realtà una serie di fattori anche di natura biochimica, enzimatica, ormonale che portano a una crescita così differente dei due biondi cioè della marza e del portinnesto che anche se le piante sono affini non riescono a convivere tra di loro. Bene l'argomento innesti è molto ampio avremo bisogno di molto molto tempo per poterne parlare in maniera più approfondita per esempio sul comportamento dei vari portinnesto alcuni dei quali hanno un comportamento nanizzante cioè riducono la chioma della futura pianta altri invece hanno un comportamento di rinvigorire la chioma di ingrandirla rispetto a quella che è la normale pianta. Potremmo parlare su come ottenere degli ottimi portinnesto per poi poterli utilizzare ma io non voglio tediarvi più di tanto per cui fatemi sapere intanto se questo video vi è piaciuto con un like, un pollice in su e magari scrivetemi nei commenti gli argomenti che volete che approfondiamo nei prossimi video. Per voi che vi siete iscritti al canale e avete attivato le notifiche cliccando su quella campanellina riceverete l'avviso non appena sarà pubblicato il prossimo video per cui io vi do appuntamento a presto. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!